Giro di boa per il Salento Finibus Terre, che arriva a Mesagna, in provincia di Brindisi. Vincitrici ex equo del premio come miglior attrice Corti Cortissimi sono Deborah Antonacci, con Notte Sento, e la spagnola Natalia Matteo, con Equipages. Vincitore della sezione Corti Cortissimi è il raffinato The Silver Border, l'irlandese Robert Manson, che racconta il magico rapporto tra un padre e suo figlio. Grande successo per Amare, di Martina Amati, che si aggiudica al premio per la miglior regia. Premio Unicef per il miglior cortometraggio della sezione dedicata a più piccoli va da Kim, una storia intensa ed emozionante che racconta il dramma di un bimbo che ha perso la madre per l'AIDS. In un'ora del cinema, Mesagna ospita il castello Normanno Svevo, la mostra a fotogrammi di set 50 anni di cinema. Fotografie inedite scattate da storici fotografi di scena durante le riprese di alcuni film che hanno fatto la storia del cinema in Italia e all'estero. Dai set di Federico Fellini a quelli di Lucchino Visconti e Mario Monicelli, da Giuseppe Tornatore a Salvadori, fino a Martins Corsese. Un viaggio senza tempo tra attori e registi famosi attraverso la scelta di 70 fotogrammi in bianco e nero.